La denuncia venne presentata da una donna di Mazzarino. L'accusa mossa contro un medico gelese in servizio alla clinica Santa Barbara di Macchitella era molto pesante. La donna raccontò ai carabinieri di aver subito una presunta violenza sessuale dal professionista. Una vicenda che però ha avuto altri risvolti a processo davanti al collegio penale del tribunale, preseduto dal giudice Miriam D'Amore, all'atere Tiziana Landoni e Angela Di Pietro. Sono finiti lo stesso medico ma anche la donna che l'ha denunciato, accusata adesso di un tentativo di estorsione. Come messo nero su bianco dal medico, avrebbe ricevuto una serie di sms e messaggi whatsapp inviati dalla donna che era stata sua paziente, nei quali gli si chiedeva di pagare circa 50.000 euro, soldi che sarebbero dovuti servire a comprare il silenzio e i messaggi. Il medico li produsse però anche ai carabinieri che intanto avevano avviato le prime verifiche. I militari l'hanno spiegato in aula rispondendo alle domande del PM, a quelle dei legali, degli imputati, gli avvocati Orazio Rinelli e Giuseppe Cascino. Il professionista ha sempre respinto qualsiasi accusa, si sarebbe solo limitato ad alcune visite specialistiche, addirittura svolta la presenza del padre della donna. Per questa ragione nel dibattimento si è costituito parte civile, nonostante sia anche imputato. Ritiene infatti che la denuncia presentata dalla donna sia stata asporta solo per estorcergli denaro.